Allora a questo punto io direi di cominciare subito da Don Ciotti perché Torino è casa sua, è diventato un luogo simbolico in queste ore, una grandissima società di appalti ma poi un lavoro difficile, sul filo, a rischio. Qual è la prima impressione che ha avuto quando è stata raggiunta la notizia delle cinque vittime cadute sul lavoro? Ma sinceramente di grande smarrimento, anche di grande dolore, poi è subentrato la voglia di riflessione e per me anche di preghiera, il pensiero va alle famiglie di queste persone che sono morte, va anche ai sopravvissuti, va a quei macchinisti, va a quelle persone che si sono trovate travolte da una situazione impressionante, che uno pensa di tutto perché ci avvengono dei fatti che impongono una riflessione seria sulla sicurezza, sulla sicurezza sul lavoro, perché negli ultimi tempi, al di là di questa vicenda che sarà la magistratura a far emergere dove sono le falle delle responsabilità, c'è un problema di sicurezza sul lavoro perché abbiamo visto l'aumento delle morti sul lavoro nell'arco di questi mesi nel nostro Paese, ma anche il dire che c'è sempre più distanziato tra i diritti e il lavoro e quindi bisogna mettere più testa in questa direzione. Il paradosso dove sta? Mentre nell'alta velocità, e Gallerne l'ha sottolineato con un ritmo di servizio oggi su un quotidiano, ma è vero, ma è vero, nell'alta velocità ci sono tutta una serie di sistemi che bloccano qualunque, a volte in modo anche extra, molto extra, ma nella bassa velocità non ci sono quegli strumenti di dare sicurezza. Al di là delle responsabilità che devono essere poi valutate, vicinanza quindi ai familiari, vicinanza alle persone, ma anche un grido rispetto al bisogno della sicurezza sul lavoro per tutti, nelle piccole e nelle grandi realtà, che non solo che certi strumenti sono nell'alta velocità nelle ferrovie, è la bassa velocità dove la gente ha bisogno degli stessi strumenti di sicurezza.